Tutti gli accellini lì e siamo arrivati a Rimini La fontana, vai che bello spruzzo improvviso, proprio per noi per festeggiare il nostro arrivo Non è fatto così apposta ma sembra proprio così Siamo arrivati a Rimini Siamo arrivati a Rimini Alla spiaggia della ruota panoramica di Rimini Andiamo alla spiaggia della ruota panoramica di Rimini Forma di un coccodrillo Sul mare Le torri dietro di noi sembrano proprio quelle della canzone di Vasco Rossi Liberi 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 siamo noi massima liberi da che cosa? Chissà cos'è Chissà cos'è Il meglio deve ancora venire Ecco questa va bene Come macchina fotografica Bella grande Fiume Ronco Fiume Ronco Ecco cari amici Questo è il luogo dove nel 2007 fu trovato un cerchio nel grano Tre cerchi e un asso in mezzo Come ad indicare l'universo che ci incontra Il sole, Nibiru, Gabriele Il sistema stellare Il sistema solare binario Questo è il luogo Sta per venire un temporale Vi faccio vedere dentro la cappella ossario Proprio vicino a dove si è formato il cerchio nel grano Ci sono degli angioletti Ecco Questa è la chiesetta Via Budria Via Budria A Coccolia di Ravenna E il cerchio nel grano si è formato In un campo di grano Miglio, segale Quel che era Il campo di grano Poi il campo E' stato riconvertito Addirittura prima a pomodori C'è un po' di vento Addirittura prima a pomodori Gli anni scorsi Incredibile ma vero Adesso A mais Qui in questo campo Si era formato nel 2007 Il cerchio nel grano Se ne sbaglio Il 7 maggio Adesso c'è il mais Guarda caso Proprio vicino ai fili dell'alta tensione Quindi energia Quella è la chiesetta Minaccia sempre un temporale Ma noi abbiamo l'ombrello Cari amici Continuiamo Questa Questa E' la La parte Energetica La linea energetica Che parte dell'adriatico La linea energetica adriatico Prendiamo Il nostro ombrello E continuiamo Grazie Grazie Il mulino a spadari Della farina di grano E' la campagna di Ravenna Magazzini del mulino E' la campagna di Ravenna La linea server energetica ma qui cosa hanno fatto con un macchinario sembra che hanno tolto le piante e pomodori e poi li fanno maturare così lontani e c'è il fosso di mezzo oh my god oh my god la campagna di ravenna ha finito di piovere è tornato il sole ha finito di piovere cari amici rimaniamo un attimino qui a godere della natura a godere di questa linea energetica adriatica solo un attimino però perché le cose vanno in fretta e il cambiamento viene in fretta però quest'attimo è nostro godiamo la linea energetica adriatica la linea di energia che passa dall'adriatico cervia quindi adriatico zona rimini riccione a largo in adriatico cervia a cervia di ravenna entra nelle campagne questa linea energetica e a sud di ravenna continua questa linea energetica bellissimo fantastico ahhh che bello energia vitale energia vitale un attimino un attimino ma